E' il giorno del dolore del ricordo a Campolucci. La camera ardente allestita nei locali della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ha accolto prima ancora dei fedeli gli amici di Don Paolo, gli agenti di polizia di cui era cappellano e personaggi del mondo dello sport con i quali il sacerdote condivideva la passione per il calcio. Faccio un po' fatica a parlarne perché mi legava una profonda amicizia e penso di essere stato uno dei primi quando lui si è insediato qui ad Arezzo a conoscerlo, a passare dei momenti speciali, passione comune del calcio, personaggio tra virgolette perché riusciva a unire quella che era la sua professione a questa passione del calcio che mi piaceva tantissimo. Mi piaceva condividere questi momenti con lui e mi viene in mente una cosa che mi diceva sempre, voglio giocare con te perché voglio vincere. Ieri sera purtroppo non siamo riusciti a chiudere questa partita anche se l'avamo momentaneamente in parità e questo mi dispiace tantissimo perché avrei voluto ancora una volta divertirmi fino alla fine con lui. Tra l'altro insieme a te anche tanti altri giocatori, anche ex Amaranto come Roberto Bacci, ultimo anche Enrico Chiesa, non era solo un prete, un pastore, era anche comunque dedito a iniziative di beneficenza. Stava portata anche la squadra a giocare a Barcellona, unendo voi ex calciatori anche con i ragazzi del posto. Sì, poi io sono stato partecipe a moltissime delle sue iniziative. Uno che mi ha lasciato il segno è che siamo stati due volte a Betlemme, siamo stati in Palestina a fare due grossi avvenimenti dove siamo riusciti tramite amici, tramite gente comune, ad inaugurare un campo proprio a Betlemme in sintetico per i ragazzi, per i bambini che fino a quel momento non ne avevano uno a disposizione. E questa è solo una delle cose che Don Paolo è riuscito a fare a favore della comunità, a favore di tutte quelle persone anche meno fortunate, perché in questo momento stavo parlando della Palestina, ma mi vengono in mente tante altre cose di cui lui è stato veramente partecipe e di cui si è messo sempre a disposizione. Se ne è andato forse facendo una delle cose che più gli piacevano? Forse questa, tra virgolette, è una delle cose che magari ti fa venire un sorriso, ti fa tanta tristezza, perché ripeto, lui nel campo si sentiva realizzato ed era la sua seconda passione. Dopo la chiesa sicuramente veniva il calcio e ripeto, lui è uno che viveva proprio di calcio nel campo, parlavi di tutto, però lui cadeva sempre sul discorso calcistico, perché era una cosa che lo faceva veramente emozionare.